Oggi siamo stati presenti all'inaugurazione della sede di Confartigianato Ancona-Pesaro-Urbino per quanto riguarda la provincia di Pesaro. Una sede che è situata in una zona strategica della città in quanto nel quartiere di Torraccia, nei pressi del casello autostradale, è abbastanza vicino a tutta l'area commerciale che ruota intorno alla Vitri Frigo Arena. Grazie a tutti. 3.500 pensionati che si sono rivolti alla nostra associazione. Quindi un segnale importante, un segnale di vicinanza al territorio in un contesto economico estremamente complesso, in un contesto in cui bisogna aiutare i nostri imprenditori, semplificando assolutamente la burocrazia. Questa è una sede di mille metri che creerà grandi opportunità in cui i nostri imprenditori potranno trovare un sostegno su quello che riguarda l'area fiscale, l'area lavoro, il credito, l'ambiente sicurezza, l'energia, una consulenza marketing per affrontare il cambiamento. Sì, noi vorremmo che diventasse un luogo di aggregazione innanzitutto, come è la nostra sede di Ancona, dove organizzare corsi, dove creare luogo di incontro, creare informazione e dare informazioni. Deve essere una casa comune per le attività che ci sono nella zona e vorremmo fare in modo appunto che diventi una casa viva e che possa funzionare, dare tutti i servizi che possono servire all'attività imprenditoriale. E noi come associazione, come Confartigianato Nazionale, vorremmo ribadire sempre il nostro appoggio, la nostra vicinanza e riaffermare anche il valore della piccola impresa e dell'artigianato come elementi essenziali oggi per la crescita, lo sviluppo del Paese, non solo dall'ambito economico ma anche come attori sociali. Quindi coesione sociale che si fa soprattutto per la capillarità, per la presenza e per il fatto che oggi essere artigiani significa anche incrociare tre dinamiche fondamentali. Il desiderio delle persone di sentirsi parte delle comunità, nelle relazioni, nei luoghi, nelle iniziative che li coinvolgono. Il valore di un'innovazione aperta, perché siamo al di là di quello che pensano tutti estremamente tecnologici, quindi non siamo una riserva in diama e non siamo neanche in via di estinzione. E poi una produzione attenta e consapevole all'ambiente. Sono state fatte delle leggi sull'innovazione tecnologica, sulle filiere e sulle start-up innovative. Queste leggi regionali hanno concorso a creare un sistema normativo della regione Marche che è all'avanguardia rispetto a ogni altra regione e in particolar modo adesso stanno partendo le misure finanziarie per realizzare gli obiettivi di quelle leggi. Ed è un momento molto favorevole per l'impresa artigiana, tant'è che nel 2023, nei primi mesi del 2023, si segna la fine di un decadimento anagrafico delle imprese artigiane che erano in un crollo verticale. Questo perché bisogna puntare sull'impresa artigiana, però in una chiave innovativa. Ci sono delle eccellenze di livello mondiale, pensiamo semplicemente all'industria motoristica. Queste eccellenze ci sono riconosciute da tutto il mondo, quindi questa piccola regione fa delle cose grandi per mezzo dei grandi artigiani, dei grandi imprenditori. Un pezzo della cultura del nostro territorio è legatissima all'artigianato, quindi questa nuova sede è un impulso anche a guardare con fiducia al futuro. Per tante imprese, piccole imprese, sappiamo che il momento non è dei più facili per i conflitti internazionali, per le ripercussioni che hanno sull'economia, però qua c'è un tessuto che ha sempre trovato grande capacità di innovazione, di rinnovamento e la capitale della cultura è un modo per valorizzare anche loro.